buongiorno non ti ricordo se non ti sicuro buongiorno faccio il mio nome buongiorno eh, per la prima misura questi stanno andando adesso stanno andando molto tempo e qua è tutta una bottiglia che è movimento sapete come vuoi? i lavoristi lavorano, levo sinistra ci siamo incontrati comunque ci siamo incontrati siamo tutti per voi e per noi grazie grazie grazie